Uomini e donne, Melania investita da un pirata della strada, il ritorno in studio. La corteggiatrice torna in trasmissione con tanto di gesso. Lo fa per socio, l'uomo che le piace. Peccato però che lo trova con un'altra, Federica. Incidente per Melania, corteggiatrice di uomini e donne. La bella siciliana è stata vittima di un investimento mentre si trovava sulle strisce predonali a Catania, la sua città. Oggi il ritorno in studio, con tanto di gesso alla gamba, deciso soprattutto perché, spiega, Sossio voleva una dimostrazione, e quindi. Melania, insomma, è tornata in trasmissione principalmente per l'uomo che le piace, che però dal canto suo non mostra l'entusiasmo che ci si potrebbe aspettare. Al suo ingresso, infatti, Sossio, che giorni fa è andato a trovarla per portarle conforto, è seduto di fronte a Federica, un'altra corteggiatrice, che ha cominciato a conoscere in questi giorni. Lo sapevo, me lo aveva anticipato, dice Melania. Sono uscito con Federica perché mi incuriosisce, perché io e Melania non abbiamo un'esclusiva. Il gesso è l'ultima delle cose, dice Sossio. Gli scoppiano le tensioni. Sossio e Melania, infatti, hanno punti di vista diversi. Lei ritiene ingiusto, che l'uomo conosca due persone contemporaneamente. Lui prova a spiegare che è ancora presto per darle una conoscenza esclusiva. Lui è un galatuomo perché altrimenti non sarei finita qui, però non sono contenta, chiosa la catanese. Lui è un galatuomo perché altrimenti non sarei finita qui, però non sono contenta, chiosa la catanese.